Questo è Non me la da, fit, Fabio Rovazzi e Leonardo Carli. Spero che vi piaccia, raga. Lei non è solo, si botte via, guardo sempre Whatsapp, la seguo su Snapchat, ma non risponde mai. Dai sono una webstar, le do popolarità, ma nonostante ciò, non me la dà, vorrei ma non ci sta. Mando il cazzo su Snapchat, quella puttana, non me la dà, ma con Anthony ci sta. Mi ha bloccato su Snapchat, scrivere un libro si la convincerà, ma la convincerà.